eccoci qua questa volta per davvero pochi minuti fa abbiamo fatto un tentativo per capire se riuscivamo a procedere anche con questo collegamento aspettiamo che si colleghi in un po un po di persone oggi abbiamo una diretta simpatica interessante con un'amica monica sarti direttrice creativa in parte elemento fondante portante dell'azienda faliero sarti eccola qui ciao monica adesso ti invito immediatamente così l'attimo nel mentre aspettiamo che si colleghi in un po di altre persone ciao mariella spero davvero di averti presto e forse coraggio ti mando un bacio grande mandavo un bacio a una nostra cliente amica di bologna la mariella tozzi e monica buon pomeriggio grazie prima di tutto anche in questo sabato anomalo anche se un sabato di festa 25 aprile di avermi dato l'opportunità di collegarmi con te di poter aver modo di raccontare qualcosa in più e sentire dalla tua viva voce qualcosa di più sull'azienda faliero sarti che è un brand italiano un'eccellenza italiana assoluta riconosciuta in tutto il mondo non solo con come brand faliero sarti ma voi come come molti sanno siete veramente un punto di riferimento anche dal punto di vista produttivo collaborate con i più importanti brand del del lusso presenti sul mercato senza fare alcun nome per per questioni diciamo oltre che giustamente di privacy per evitare di dimenticare qualcuno però lascia mi lascio sfuggire basti pensare diciamo che faliero sarti collabora con uno dei nomi proprio per eccellenza del mondo del lusso mondiale quindi il famoso un famoso marchio che inizia con la cd como ecco come dire mai mai buongiorno la cd como va bene siamo gli unici e ci collaborano siano assolutamente gli unici però questo diciamo è un elemento importante allora lo scopo di queste di queste dirette qui e ti ringrazio veramente con il cuore è quello di raccontare qualcosa di più delle eccellenze italiane io iniziato un primo percorso avendo la possibilità di collegarmi con i titolari di alcune di alcune boutique presenti sul nostro territorio continuerò nei prossimi giorni ho lanciato un appello affinché anche i brand si rendessero partecipi a questa mia piccola iniziativa per banalmente metterci la faccia anche in un momento così difficile raccontare qualcosa di più dare un segnale di presenza a prescindere da tutto che reputo molto importante quindi abbiamo iniziato questo questo viaggio con la collardini oggi continuiamo con voi di faliero sarti con te in particolare e ti ringrazio molto e ti lascio la parola per raccontarci qualcosa di più della tua azienda prima di tutto e di come e di come state procedendo in questo periodo allora dell'azienda guarda mi sembra di iniziare un disco un po' rotto comunque l'azienda nasce faccio sono la terza generazione nasce 73 anni fa grazie a mio nonno faliero di cui attualmente appunto continuiamo utilizzare il nome e loro nascano come tessuti per cui tessuti per abbigliamento pratesi tra l'altro mio nonno è stato tra i primi è stato il primo industriale tessile a lasciare diciamo il rischio lo stile povero del riciclaggio pratesi e buttarsi a fare delle cose con filati particolari comunque sia per entrare in quelle che poi sono state le sartorie che poi sono diventate ovviamente le linee di moda nel mondo e io ho iniziato da dopo aver studiato un po' all'estero sono tornata a casa con pochissimo con zero nozioni tessili per cui mi piaceva da morire il profumo della fabbrica ma ovviamente non sapevo di che cosa si trattasse per cui ho iniziato a stare vicino al ho iniziato dalla parte più bassa cioè dai telai dalle persone che proprio del gli operai di cui ovviamente stando lì vicino mi insegnavano sempre qualcosa perché spesso quando stai negli uffici nei palazzi alti nei piani alti ovviamente danno sempre tutto per scontato ma non è sempre tutto scontato insomma è importante partire dalle basi per poi andare in alto e per cui questo mi è stato di tantissimo aiuto per cui insomma per il primo anno ho lavorato proprio nel alla gavetta e mi è piaciuto da matti e poi gradualmente si è manifestata l'opportunità di iniziare a lavorare all'interno della divisione degli accessori che era un reparto che mio nonno aveva creato per mia zia che sfortunatamente che era solo reparto casa che sfortunatamente è mancata molto presto per cui il reparto diciamo è rimasto sospeso e siccome io ovviamente non riuscivo a trovarmi una mia collocazione all'interno dell'azienda mi sono presa un po' questa sfida e ho iniziato a lavorare appunto negli accessori e lavorando negli accessori ovviamente mi sono scontrata con un mondo tessile che era completamente diverso dai parametri con cui io volevo lavorare perché ovviamente io non essendo una molto alta molto grande eccetera ho bisogno anche dei volumi che mi accompagnino non mi soffrochino e quindi ho iniziato ad alleggerire i pesi a lavorare con dei materiali inusuali perché per me le due basi del diciamo della sciarpa erano uno la t-shirt quella che usi d'assente che poteva essere quella del fidanzato comunque quel materiale di jersey un po' liso che fa parte del tuo mondo degli affetti e un altro è lo chatouche che è appunto questa base di cashmere leggerissima che è molto molto grande ma diventa molto molto piccola attorno al collo è molto accogliente per cui su quei due parametri io ho iniziato il mio mondo che doveva essere un mondo prima di tutto estremamente avvolgente non soffocante e che avesse una mano anche di sensualità perché alla fine il collo è la parte diciamo più nuda del corpo umano che usi tutti i giorni perché è come l'intimo da esterno ecco e quindi su questi valori qui ho iniziato a lavorare diciamo che ho avuto la strafortuna prima di tutto di entrare dalla porta principale perché comunque ho sempre avuto alle spalle una meravigliosa azienda che appunto mi dava la possibilità di confrontarmi quotidianamente tramite i sessuti con tutte le realtà stilistiche del momento per cui partecipavo alle fiere con loro e avevo modo di confrontarmi proprio apertamente con gli stilisti che c'erano sempre che c'erano nello scenario del fashion per cui questo qui fa sì che hai un occhio e un orecchio comunque sia preparato a vedere in diretta tante cose questa è una grandissima fortuna in più io ho iniziato a fare le sciarpe più riutilizzando i tessuti di mio padre per cui li andavo a vendere ai confezionisti quindi avevo le porte aperte perché ovviamente l'azienda permetteva di averlo quando poi mi sono resa conto che questo servizio conto terzi aveva sempre di più uno sviluppo proprio perché comunque non erano tanto gli stilisti che mi davano e mi davano consigli input però io creavo qualcosa che a loro piaceva allora a certo punto ho detto beh giochiamo con me stessa perché comunque sia forse è arrivato il mondo il momento di fare un passino avanti e quindi ho iniziato probabilmente nel momento giusto con l'articolo giusto con tutto giusto cioè prima non era come adesso cioè facevi qualsiasi cosa se era il momento giusto lo era diciamo che sicuramente sicuramente i tempi sono cambiati era più facile quello che dici dimostra ovviamente per come conosco te e l'altro pezzo della tua famiglia quindi Federico tuo fratello due persone assolutamente umili e molto con i piedi per terra quindi questo diciamo che stai dicendo conferma quello il modo in cui io vi conosco però sicuramente prima le cose erano diverse forse più facili chi lo sa nella realtà dei fatti penso che momenti davvero facili non ci sono stati comunque no quello mai diciamo probabilmente un sicuramente un vantaggio per una lunga storia familiare quindi la possibilità di avere come dici te già le mani possibilità di mettere rapidamente le mani in pasta per per produrre per realizzare già dei contatti alla base ma quello che contraddistingue da sempre diciamo i vostri prodotti soprattutto per chi diciamo nell'ultima generazione quindi chi vi conosce negli ultimi 10 15 anni è davvero la grande innovazione la qualità delle materie prime ma davvero la grande innovazione in termini creativi ed è quello poi dove lavorite quindi sicuramente quando uno apre e comunque ha avuto modo di visitare soprattutto anche le fiere dove voi siete molto presenti che sia il pitti ovviamente le fiere internazionali piuttosto che il white a milano avete un'esposizione che insomma parla da sola parliamo mi permetti dire veramente dei quadri sono delle tele sono delle tele dove voi realizzate una un'infinità di di fantasie di proposte e divertente diciamo che io adoro l'arte tanto per cui queste le vere tele dei veri artisti diciamo che ispirano anche molto è però ecco è vero che allora l'umiltà credo che sia una questione di buon senso ed educazione perché è sempre importante e non 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 sei quella che sa di più c'è sempre qualcuno che sa sempre più di te per cui è sempre importante rendersi conto che c'è sempre qualcosa da imparare da chiunque e questo devo dire sicuramente è un insegnamento di vita che spero di riuscire a trasmettere anche a mio figlio però è anche vero che vengo da una famiglia in cui il made in italy e il gusto della ricerca e del bello è sempre stato nel loro dna per cui tuttora noi abbiamo un archivio che mio nonno intelligentemente 70 e passa anni fa appena iniziato a fare le sue collezioni ha tenuto un pezzo di ogni di ogni articolo nato per cui credo che abbiamo un archivio tessile uno dei più interessanti se non più grandi d'italia perché comunque ci sono 70 anni di storia in estate e inverno con veramente un'infinità di situazioni per cui diciamo che se uno è sveglio intelligente e agli occhi attenti al mercato diciamo che hai anche delle delle possibilità di relazionarti con i prodotti che sono infinite ecco è vero che non niente scontato nessuno ti regala niente e niente dovuto cioè viviamo sicuramente e mai come adesso una situazione di realtà in cui ogni giorno ti devi mettere veramente in discussione con te stesso perché viviamo in una realtà che sta cambiando in una maniera impressionante minuto per minuto prima le generazioni erano ogni 25 anni poi le generazioni sono passate ogni 10 poi ogni 5 adesso veramente credo le generazioni si susseguono indipendentemente veramente giorno per giorno e quindi devi sempre essere attento anche perché facciamo questa intervista tramite un telefonino che ci può raggiungere ovunque per cui ovviamente sei arrivabile raggiungibile da qualsiasi parte ma come sei raggiungibile fisicamente sei raggiungibile anche con un'idea con qualsiasi cosa per cui è tutto veloce completamente tutto veloce devi essere altrettanto veloce te a mutarti a cambiarti e adeguarti al mondo in cui vivi altrimenti rimani indietro dal punto di vista lavorativo tra le altre cose voi avete proprio sicuramente oltre che la capacità di fare questo mai come in questo momento potete essere proprio persone da ascoltare che hanno un'esperienza reale nel senso che comunque avete il vostro brand con una distribuzione molto importante siete veramente posizionati nei più bei negozi del mondo con il brand Fale Rosarti come abbiamo detto però producete anche contotersi e collaborate con diversi brand avete anche un vostro percorso retail quindi con dei vostri monomarca quindi mai come in questo momento diciamo state affrontando un cambiamento e delle difficoltà epocale epocale assolutamente quindi state veramente dovendo gestire una situazione complicata e in continua evoluzione quindi ecco mai come in questo momento davvero potete insegnare o raccontare soprattutto veramente la vostra esperienza il vostro modo di lavorare non solo con professionalità ma come ci dicevamo con grande umiltà è anche la capacità rapidamente di riadattarsi a delle situazioni complesse molto complesse come in questo momento l'unico faccio solo una battuta sciocca lasciamola passare veramente l'unico che penso magari possa tra virgolette veramente con delle virgolette molto grandi poter essere un filo più contento magari tuo fratello che si respira un attimo visto che è sempre in giro itinerante a parlare a fare quindi magari sì davvero però magari gli bastava una settimana secondo me una settimana era più che sufficiente era per tutti come per lui però sì diciamo che adesso durante specialmente questo periodo di lockdown il commerciale lo fai in un in un 12 per 5 tramite un telefonino ecco non devi andare a giro è vero che è un cambiamento pazzesco un cambiamento epocale però è stato un cambiamento anche un pazzesco epocale quando anch'io ho iniziato come figlia di papà tra virgolette che da un'azienda tessile ho iniziato a a fare sciarpe cioè a fare sciarpe e poi mettermi sul mercato che ovviamente tu ti dicevano mamma cosa fai un negozio quello di sciarpe non reggerà mai eccetera mentre invece per me era fondamentale come era fondamentale andare alle fiere e quindi dialogare con i tuoi clienti perché comunque loro hanno la percezione del mercato così è altrettanto importante non ti in realtà ti fa capire ciò che sei ciò di cui hai bisogno e tutto le regole del mercato e adesso ancora di più diciamo che i negozi sono stati una scuola sono una scuola fondamentale per capire tutte le esigenze del mercato per metterti comunque in in gioco tutti i giorni perché comunque sia tutti i giorni guardi se qualcuno entra o qualcuno esce dal negozio che cosa vendano e che cosa non vendano per cui comunque sia il dovere di un imprenditore comunque di una persona che si occupa di un'azienda non è soltanto apparire carina o non carina o l'immagine dell'azienda e comunque dare tranquillità ai tuoi dipendenti e quindi essere responsabile per loro però nello stesso tempo avere un grandissimo rispetto per quelli che ti comprano per quelli che credono in te e quindi sapere anche ascoltare i difetti o i pregi di ciò che fai infatti io preferisco sempre sapere i miei difetti i pregi si possano sempre sapere o comunque sia siamo sempre tra virgolette sicuri di noi ma i difetti sono fondamentali perché quelli li devono tassativamente migliorare e adesso diciamo in questa situazione è cambiato ancora di più lo scenario perché sicuramente avere i negozi è tra virgolette un problema perché ovviamente c'è i dipendenti oltre a quelli aziendali c'è dipendenti nei negozi che non saranno assolutamente i primi a riaprire in un momento del genere però in un secondo tempo può essere un aiuto perché comunque può essere uno sbocco diretto per comunque smaltire o distribuire i tuoi prodotti perché non ci dimentichiamo che questo periodo comunque bisogna riflettere anche che questo periodo di lockdown comunque di tasi, di fermo, di tutto comunque sia sta cambiando la testa della gente comunque ci ritroviamo da 40 giorni in casa chi meno bene o meglio però comunque in cui ti rendi conto che sei in una casa che delle volte è stata soltanto di passaggio inizi a vedere la quantità di roba che hai che sia bello brutta ma ti rendi conto di quanta roba accumuli e di quante cose sono superflue per cui di sicuro tante cose e in più ti rendi conto adesso della precarietà di ciò che c'è intorno e quindi anche lo shopping sicuramente sarà uno shopping molto più intelligente molto più accurato sicuramente la qualità sarà premiata molto o la qualità o il prezzissimo per cui perché purtroppo la gente comprerà sempre di più tramite online e questo si è verificato anche noi adesso che abbiamo iniziato a fare il discorso delle mascherine per reinventarsi un qualcosa veramente ha avuto un boom e se ne sta vendendo online cosa che si vendevano le sciarpe ma non assolutamente come quello che sta succedendo certo i volumi sono diversi e quindi devo dire che questa trasformazione sarà una trasformazione che veramente cambierà anche il modo di approcciarsi al prodotto finale e comunque al negoziante e a tutto un sistema che dovrà essere rivisto e tutti quanti siamo bravi a fare teorie sarà qui, sarà là, su e giù in realtà secondo me non c'è una ricetta nessuno sa che cosa può capitare domani perché veramente nessuno 40 giorni fa, 50 giorni fa si sarebbe immaginato di poter fermare il mondo così e quindi dobbiamo essere estremamente pronti in questo momento estremamente attenti a tutto e estremamente pronti nel momento in cui tra virgolette si riapre a non piangersi addosso ma a reinventarsi cioè sicuramente è una foto da questo punto di vista diciamo te poco fa hai introdotto proprio un argomento quindi parliamo di questo discorso qui delle mascherine che a prescindere da tutto diciamo è stato un ulteriore modo da parte vostra di reinventarvi e di poter oggettivamente onestamente senza essere ipocriti rapidamente trovare una soluzione chiamiamolo un salvabuco di quello che è un po' il blocco totale quindi vi ha permesso anche di ritenervi attivi e di cercare di dare non solo un prodotto poi utile ma anche poi che tenesse diciamo in piedi se non almeno in piccola parte una parte dei fatturati dell'azienda sì quello assolutamente devo dire che per me stare in casa è tipo non lo so mettere un leone in gabbia cioè veramente mio figlio non credo mi abbia mai visto in vita sua più di otto ore di seguito in casa per cui già era un miracolo fuori comune però ecco stando a casa ti rendi conto poi essendo azienda di tutti i problemi che avrai alla riapertura per cui io ho la grandissima fortuna di fare foulard per cui comunque sciarpe per cui le sciarpe sai sono rettangolari sono quadrate non hanno una taglia non hanno tante tante regole che purtroppo l'abbigliamento pone per cui ovviamente la mascherina è stata proprio un un bisogno di dire ma io ho tutte queste sciarpe nel magazzino belle e tutto ma come me le rinvento cioè dove le posiziono per cui volevo fare già le mascherine tipo a gennaio febbraio e mi ho detto no ma che sei matta perché ancora non era successo ancora niente per cui mi ho detto ma che ma non esiste ma non succederà niente e mi dice ma secondo me succede qualcosa poi quando è iniziato invece tutta la tragedia ovviamente non mi sarei permessa di farle perché la situazione era talmente critica nella reale necessità che dare il futile era veramente una una presa di giro cioè sinceramente quando poi abbiamo diciamo passato il momento di allarme rosso e quindi tutti quanti tra virgolette hanno iniziato a mettere sul mercato questo tipo di prodotto allora ho detto beh allora può essere il momento giusto e quindi devo dire sicuramente sono stata molto brava non me lo dico per per molto brava come italiana diciamo perché credo che sia la prerogativa di noi italiani essere veloci quando vogliamo e saperci veramente mutare a secolo siamo molto camaleontici siamo per cui ci riusciamo ad adattare tante volte alle situazioni e diciamo che sono stata facilitata dal fatto che avevo tutto il magazzino per cui veramente dal giorno al domani ho messo in mano ho messo in piedi una linea di mascherine in maniera veramente inconsapevole per cui ci siamo informati di tutto ciò che era nei parametri del ministero della sanità inoltre vivendo a Prato avevi accesso anche a tessuti che servivano per la realizzazione quindi anche il tessuto non tessuto elastici eccetera c'erano già la produzione intorno a noi perché la facevano per molti istituti sanitari per cui abbiamo ho iniziato veramente velocemente ma dal dal giovedì venerdì erano pronte devo dire ho avuto lo staff intorno a me per primo mio fratello Federico che ci siamo guardati negli occhi basta si fa perché se no si diventa pazzi le ragazze del team veramente sono state eccezionali perché mi hanno seguito nonostante l'incredulità ma questo sicuramente è anche il bello di essere l'imprenditore cioè e di dare fiducia a quelle che hai accanto per cui tutti quanti mi guardavano e mi dicevano ma veramente non si riapri dicevo no no ragazzi non vi preoccupate noi qualcosa faremo cioè proprio mi rifiutavo di vedermi chiusa in casa 40 giorni e così ho fatto in effetti è stata un'ottima idea nel momento giusto forse lo stesso momento giusto che era successo vent'anni fa per fare le sciarpe probabilmente è arrivato vent'anni dopo per fare le mascherine però ecco credo che sia una cosa è un orgoglio italiano credo ecco questo fatto di essere molto veloci molto molto bravi ad adeguarsi ecco cioè noi italiani ci si rendesse conto che noi veramente siamo un gran paese con delle enormi potenzialità probabilmente non ci troveremmo in tante situazioni ecco diciamo che non abbiamo così tanta fiducia in noi stessi non è che io ce l'ho però ecco mi sento orgogliosamente italiana e soprattutto adoro ciò che fa abbraccio e non riesco a vedermi ferma cioè per me il bicchiere è sempre mezzo pieno non sarà mai mezzo vuoto e quindi non accetto di piangermi addosso continuare sempre a lamentarsi che cosa farà il governo che cosa fa qui ma quando riavremo cioè gli aiuti ce li dobbiamo dare prima di tutti noi stessi poi li dobbiamo dare agli altri non dobbiamo aspettare che qualcuno aiuti noi perché secondo me è utopia però ecco l'importante è cercare di trovare una soluzione quello sempre e comunque sì assolutamente io da questo punto di vista prima di andare poi a vedere proprio visivamente questo è il prodotto che state realizzando quindi queste queste mascherine dove tu tra virgolette tra le altre cose ci hai proprio messo la faccia nel vero senso della parola nel senso che sei tu prima testimonial persona che ha appunto racconta questo questo tipo di prodotto qua che penso porti proprio il tuo nome o comunque sì ma quello non è nato perché sono una egocentrica no 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 e che non c'era nessuno perché ho detto vabbè dai le metto su me stessa e allora ho detto vabbè gli occhi me li posso valorizzare perché sono carina in nato è orrendo per cui ho detto per me era un gioco fantastico perché ho detto almeno mi tappava e ho detto va bellissimo per cui ho iniziato a farmi le fotografie ovunque c'era mio figlio mi guardava perché io me le facevo in tutti gli angoli della casa mi cambiavo i vestiti tipo una mezza pazza poi quando ho iniziato a buttarle su Instagram ho detto vabbè la gente mi prenderà veramente per pazza perché dirà ma questa ha perso il cervello cioè pensa di essere una fotomodella chissà che cosa però ecco secondo me è il modo veramente migliore per comunicare chi siamo cioè è un mondo da reinventarsi una storia da rifarsi e noi per primi dobbiamo metterci la faccia cioè io ho la mia faccia e non mi vergogno a mettercela cioè comunque mi sono messa in discussione mi metto in discussione tutti i giorni ho i miei dipendenti che devo difendere ho la mia azienda che devo difendere ho fatto tutto il mio nome da tenere una bandiera alta nel nel cipro sono assolutamente d'accordo ci terrei proprio a precisare una cosa perché mi è capitato parlando con con tante persone magari leggendo degli articoli sui giornali no? che tante aziende magari hanno eh approfittato del momento con la scusa della della produzione di mascherine o altro per prendere sovvenzioni piuttosto che per camuffare la ripresa nella nella realizzazione delle mascherine diciamo con la scusa delle mascherine poi continuare a svolgere regolarmente il proprio lavoro la produzione o altro quindi ci terrei proprio che da questo punto di vista sottolineassimo che da chi vive davvero la realtà non è propriamente così ci sono dei controlli dei controlli molto serrati e ovviamente non è specialmente nel vostro caso non era quello lì diciamo lo scopo non serviva per camuffare nulla questo tipo di idea ma anzi come hai correttamente detto e coraggiosamente detto e sottolineato è stato un impulso proprio da imprenditrice da persona forte che ha captato e ha trovato lì il modo per reinventarsi ricostruire ripartire con qualcosa per difendere con i denti e con le unghie la propria azienda i propri dipendenti e anche tutto il vostro il vostro saperne lavorare perché comunque parliamoci chiaro questo prodotto che state realizzando è un prodotto che è realizzato seguendo delle regole ben precise quindi poi ci racconterai quanti strati di tessuto come è realizzato e in più come ho detto in altre in altre occasioni siccome dovremmo convivere sicuramente per un po' con questo strumento che è tutto tranne che simpatico sei riuscita a reinterpretarlo nel vostro modo quindi a dargli una personalità e un se vogliamo un un aspetto più più simpatico meno meno invasivo diciamo più umano meno medico sì allora hai detto una cosa giustissima allora innanzitutto credo che mai come in questo momento il rispetto e l'etica deve venire fuori perché comunque ognuno tira l'acqua al suo mulino ed è vero però ecco viviamo in un momento veramente delicato in cui quando uno torna a casa si deve guardare allo specchio e essere sicuro di aver fatto la cosa giusta per cui quando noi abbiamo deciso di aprire per fare le mascherine non mi sarei mai permessa di darle in beneficenza agli ospedali e cose del genere perché onestamente non erano tutelative per la salute medica sto parlando per cui bisognerebbe anche quello essere un attimino più umili e più corretti sotto tanti punti di vista e mettere le persone che lottano per la nostra salute in condizioni veramente di poterli tutelare cosa che purtroppo non è stato fatto e per cui quando noi abbiamo iniziato quando abbiamo chiesto il permesso della trasformazione del codice appunto per fare le mascherine sono stata molto chiara nei confronti prima di tutto di me stessa e poi nei confronti dei miei dipendenti ho detto benissimo soltanto no 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 eravamo arrivati assolutamente che diciamo c'è un discorso assolutamente di etica totale quindi diciamo che voi non vi sareste mai permessi diciamo di mettervi a realizzare qualcosa che poi non era e attualmente ovviamente non è tutelativa al 100% della salute intesa come strumento che possano ovviamente usare i medici i medici quindi nasce con un altro nasce con un altro intento non era quello quindi è il motivo per il quale non vi siete messi a produrre o a paventare una produzione per una donazione agli ospedali quando poi nella realtà dei fatti non erano assolutamente non sono diciamo le mascherine con i filtri e quindi quelle che possono aiutare i medici che avrebbero necessitato fin dall'inizio e ahimè come sappiamo purtroppo tanti non hanno ricevuto hanno dovuto lavorare con mezzi propri o addirittura senza mezzi rischiando la vita e come sappiamo purtroppo qualcuno anche non riuscendo diciamo a essere con noi in questo momento qui purtroppo no devo dire anche che io sono sono molto superstiziosa per cui ecco non avrei neanche fatto una cosa diciamo tra virgolette illegale per farle furbate perché trovo che quando uno fa le furbatine poi ti tornano indietro per cui ho detto per l'amor del cielo no no però ripeto noi lo scopo di queste dirette qua poi specialmente con le aziende a prescindere mascherine non mascherine è quello come abbiamo come ho chiesto io di metterci di metterci la faccia intanto dire noi ci siamo e stiamo come tutti soffrendo e facendo un enorme sforzo dal punto di vista lavorativo e umano nei confronti dei nostri dipendenti dei titolari degli altri negozi cioè mia figlia nel mentre come tu sai bene anche mia figlia inizia a dare i primi segni di squilibrio e quindi è qua è qua che gira e disturba la forza detto questo appunto lo scopo di queste dirette è dare la propria la propria personale testimonianza a livello davvero umano e mostrando le proprie debolezze o le proprie voglio dire il modo con il quale sta reagendo quindi io apprezzo moltissimo ti ringrazio di questo della totale onestà oltre di essere qua ma veramente del modo schietto e sincero con il quale stai raccontando di questo di questa iniziativa che io rispetto totalmente perché è un un'assoluta presa di posizione da parte vostra e tu in particolar modo che hai tirato fuori questa idea proponendola a tuo fratello e poi al resto dell'azienda di caricarvi un ulteriore peso come dicevi in questo momento qua perché bisognava dare un segnale prima di tutto a voi stessi ai vostri dipendenti e comunque a tutte le persone che collaborano con voi avete tanti anni di storia rappresentato un'eccellenza italiana e doversi fermare o rischiare di non riaprire per cause non vostre dovute a non delle vostre carenze dal punto di vista qualitativo lavorativo e umano era ovviamente come lo sarà e lo è per tantissimi altri professionisti del settore una cosa che non si può accettare e no per me guarda ti giuro quando mi hanno detto parola cassa integrazione mi sono messa a piangere veramente ho detto no non ce la facevo fisicamente accettare la parola del genere per me era proprio una sconfitta sotto tutti i punti di vista cioè ci stanno mettendo l'Italia in cassa integrazione cioè stiamo mettendo noi stessi cioè la nostra testa fondamentalmente cioè questo questo lockdown secondo me purtroppo sta creando una sorta di intervallo mentale che la gente si sta quasi abituando cioè tutti noi italiani siamo molto ci piangiamo tanto addosso perché siamo tutti un po' viziati chi dà le mamme chi dà le moglie chi dà chi comunque però comunque sia riusciamo sempre a commiserarci in qualche maniera e adesso questo continuo stare fermi sta creando proprio una stasi che se non riparti cioè la testa non ingrana più cioè rimane sempre ferma sembra normale alzarsi alle 10 di mattina stare a casa tutti i giorni o in pigiama non cambiarsi non lavarsi i capelli non andare cioè ti stai abrutendo per cui ecco per me il riniziare prima di tutto in totale sicurezza e rispetto sia per per il nome che porto ma soprattutto per quelli che stanno rischiando la vita fuori ed era un dovere minimo che uno dovesse fare per cui ecco quando abbiamo iniziato a fare questo discorso delle mascherine mi sono prima informata se era una cosa fattibile perché ovviamente entri in un circuito di cui non sa assolutamente niente per cui mi sono fatta mandare dal ministero tutte le cose che ovviamente servivano per farle poi quando la cosa era abbastanza tra virgolette semplice perché devi trovare questo tessuto non tessuto di un certo tipo di parametro di grammi e metterlo a tre il famoso TNT esatto e ovviamente metterlo a tre strati per poi aggiungerci ovviamente quella lì è la mascherina quella che abbiamo fatto noi è ovviamente metterci il valore il quarto valore aggiunto che era appunto la sciarpa in cotone o in cascimi no in seta o in cascimi in seta o in cotone in cascimi non c'è tra l'altro sono un quattro occhi la mascherina crea ulteriore anche l'effetto appannamento quindi diciamo che anche al supermercato faccio grande fatica va da memoria e adesso si sta già abbiamo utilizzeremo anche un altro materiale che è 100% cotone perché il TNT non è riciclabile e io questa cosa non la sapevo però purtroppo non è un materiale riciclabile per cui è anche importante stare attenti al mondo ciò che facciamo come va a influire nel mondo anche perché abbiamo visto che in questo 40 giorni di lockdown l'impatto ambientale è stato pazzesco sono arrivati i delfini a Venezia il cielo si è schiarito e le acque sono diventate limpide per cui ho un dovere di ognuno leggevo leggevo proprio ieri adesso non mi ricordo se stavo leggendo ascoltavo al telegiornale che sono stati raggiunti i risultati in termini di riduzione delle emissioni che avremmo dovuto raggiungere nell'arco di 10 anni nell'arco di 2 mesi sono stati raggiunti quelli che dovevano essere i risultati da ottenere in 10 anni quindi sicuramente questo ci farà spero ragionare e da quel punto di vista essere tutti più sensibili su queste tematiche ovviamente ci saranno delle persone che non potranno rinunciare a spostarsi con i mezzi come sappiamo e ci mancherebbe altro le industrie ripartiranno per lavorare ma sicuramente chi può può evitare diciamo dei gesti di pigrizia e utilizzare e spostarsi in metodi più più ecocompatibili sì assolutamente e quindi ecco questo fatto di abbiamo appunto trovato questo cotone che nei parametri P2 per cui conforme al ministero della sanità appunto che richiede al fine di essere mascherine protettive a tutti gli effetti in 100% cotone che appunto è riciclabile lavabile eccetera purtroppo abbiamo dovuto aspettare il permesso ministeriale per poterli appunto utilizzare infatti parlavamo purtroppo in questi giorni con tanti altri imprenditori tra cui anche proprio Lardini stesso ci faceva presente purtroppo come sempre la burocrazia non aiuta e quindi degli enormi rallentamenti e poi adesso ripeto stanno uscendo notizie di ogni tipo continuano ad essere probabilmente bloccate la dogana e anche lì la cosa assurda noi ci preoccupiamo se abbiamo abbiamo qua siamo una potenza produttiva oltre che qualitativa poi dobbiamo acquistare determinati strumenti da altri paesi evito di dire quali sì no infatti evitiamo far uscire far uscire da qui siamo per il Made in Italy 30 milioni 35 milioni d'euro per l'acquisto di mascherine dall'estremo oriente tra l'altro bloccate ancora in dogana quindi siamo eccezionali da questo noi siamo devo dire purtroppo il nostro governo pensa più a discutere tra di loro che a dar sicurezze infatti non è una critica le donne secondo me non dovrebbero parlare né di politica né di calcio per cui non è quello però ecco fondamentalmente onestamente aiuti non mi sembra che stiano arrivando anche perché si doveva riaprire lunedì oggi è sabato e ovviamente non aprirai però è anche un segnale brutto perché comunque sia l'Italia si sta veramente dividendo in due parti ci sono quelli che è normale quasi piacevole stare in cassa integrazione avere il sussidio statale ci sono altri tanti che veramente amano il proprio paese amano ciò che fanno hanno proprio bisogno oltre che di lavorare per i propri paesi ma hanno proprio bisogno per se stessi di lavorare per cui devi avere un timing devi avere qualcosa una data in cui crede perché noi si continua a spassare di date in date senza nessuna realtà certezza per cui crea sempre di più malcontento è un'agonia continua ecco veramente un'agonia continua io ho visto che mai come con questo progetto delle mascherine la mia azienda e il mio team è stato unito ci siamo sentiti parte di una roba cioè si rideva io non mi sono mai sentita veramente sorella di Federico quanto in questo periodo cioè ci telefonavamo in ogni momento e gli diceva guarda chi cosa penso non penso ma anche scherzando perché poi mi provavo le mascherine c'è Moni ha rotto le palle con questo Instagram e ti metti la faccia Moni face mask basta così che ho detto chicco non ci sa altro modo per pubblicizzare per cui bisogna farlo però ecco è stato talmente un team bello che ti sei proprio sentita parte di un mood che è e non è un fatto di essere sognatrice cioè è comunque una realtà che va considerata poi ci saranno centomila difficoltà anzi molti di più di quelle che pensiamo perché nessuno si può immaginare credo il disastro che avremo tra qualche settimana o tra qualche mese perché comunque tutte le regole sono cambiate e nessuno sa assolutissimamente dove si va perché chiunque lo dica per me è bravo cioè se la zecca però ecco tutti quanti si sa che bisogna cambiare e bisogna essere pronta a cambiare qualsiasi sia la direzione ora si pensa ad andare in questo senso le mascherine le potevano fare tutti adesso è giusto farle secondo me certificate perché comunque sia io vado con una mascherina a proteggere le persone che ho davanti a me per cui loro mettano la loro salute comunque nelle mie mani ed è giusto che in qualche maniera le protegga poi è ovvio che non le do a un medico perché probabilmente non sono non superano non sono P3 per cui hanno quei parametri lì però quantomeno sono quattro strati poveretti che uno quasi non respira ma perlomeno in qualche maniera ti proteggono ecco fondamentalmente o si cerca di proteggere quantomeno cerchi di farle seriamente ecco fondamentalmente non le fai ti chiedo ti chiedo perché l'abbiamo visto diciamo rapidamente falle tranquillamente vedere perché è importante questa cosa qui sono in questo in questo momento qui sono acquistabili tramite il vostro il vostro sito e-commerce direttamente sul sito di Faglia Rosarti corretto? sì esatto sì e allora in realtà queste mascherine qui se faccio vedere sono una diversa sono tutte una diversa dall'altra perché ovviamente vengono fatte dallo sciarpa per cui dove taglio taglio quindi non hanno un mood ovviamente di tipologia di prodotto di disegno però poi il colore viene tutto ricordiamo queste mascherine ovviamente essendo essendo in tessuto come dicevamo sono poi lavabili sono lavabili ovviamente non sono medicalmente quindi per l'ospedale queste cose assolutamente non sono di protezione medica però appunto sono lavabili più volte ovviamente io le lavo la sera con acqua e sapone non è che le metto in lavatrice ovviamente e quindi possono essere o mascherina o copri mascherina a seconda di come uno la vuole utilizzare il motivo per cui è stata fatta principalmente è perché vedere a giro tutte queste persone con questa mascherina bianco celeste ti dà veramente l'idea di essere fissa in ospedale già le notizie erano drammatiche quotidianamente sulla mortalità quindi ho detto mio Dio già non riusciamo abbiamo distrutto ogni tipo di contatto tra virgolette umano perché ci parliamo soltanto tramite un telefonino abbiamo levato il labiale per cui non vediamo neanche un sorriso di una persona vedi soltanto gli occhi della persona che mi auguro che uno abbia dei begli occhi e riesca a comunicare visto che gli occhi sono lo specchio dell'anima vediamo chi ci sta davanti adesso però ecco il fatto di scegliere un colore piuttosto di un'altra una fantasia un nero una morte secca piuttosto che un geometrico che è un fiore ti indica già il tuo mood cioè ciò che comunque sei cioè fondamentalmente è un po' come ti vesti per cui è un accessorio che sfortunatamente farà parte del nostro uso comune in tanti paesi del in Giappone in Cina è sempre stato così cioè io da tanti anni vado in Giappone e quando ho la tosse o sto male ti senti in dovere di metterti la mascherina perché lì tutti quando uno è malato per rispetto del prossimo la usano per cui ti senti te strano perché la usi ecco fondamentalmente però lì è nell'uso del mondo per cui entriamo anche noi a far parte di quel rispetto chiamiamolo così che è doveroso per la persona che hai davanti cerchiamo di farlo comunque in una maniera da dare quantomeno un sorriso per non pensare che c'hai proprio lì davanti un malato terminale ecco poi abbiamo iniziato anche a farle da bambini perché comunque avendo il bambino io avendo mio figlio ovviamente non vedi l'ora di portargli fuori queste povere creature e quindi non puoi pensare di mettergli una mascherina grande cioè per cui è stato anche divertente lavorare con i bambini cioè i bambini io ho lavorato con mio figlio e con mia nipote tramite Federico perché gli dicevo portale alla Rachele da provare fai qui fai là e quindi ecco sì è stato è un modo nuovo cioè sicuramente per me è stato un modo nuovo soprattutto per trasmettere gioia mentre indossi qualcosa che di gioioso purtroppo non è non è facile perché stare tutti i giorni con una mascherina di pesante così veramente alla fine è soffocante devo dire noi abbiamo riniziato a lavorare rispettando tutti i parametri richiesti per dal ministero della saldità per lavorare bene ed è faticoso perché inizia il caldo per cui ti metti questi camici la mascherina i guanti di plastica è veramente faticoso cioè non non è uno scherzo non è un un gioco è veramente caldo cioè dopo un po' andando verso il caldo lo sarà ancora di più per cui ecco non è da dire una cosa all'acqua di rosa ciò che andremo ciò che ci aspetta e quindi bisogna essere preparati prima di tutti e non lo saremo ma abbastanza però ecco cerchiamo di farlo anche con un pochino più di gioia cioè come noi abbiamo il Maier qui vicino a Firenze siamo strafortunati e il primo il concetto del Maier è dare comunque ai bambini l'impressione che non sei in ospedale per cui i medici sono vestiti da clown e hanno i camici colorati invece che bianchi un po' è la mascherina è quel concetto lì ecco non sei malato e ci puoi scherzare sopra ecco vuole essere un messaggio piacevole di un oggetto che di piacevole ha ben poco ecco fondamentalmente allora ultima domanda e poi e poi ti ti libero proprio perché avete così tanti contatti da da tutto il mondo come come si stanno comportando gli altri bene o male cosa ne pensi da questo punto di vista tedeschi non tedeschi vorrei voi avete veramente tantissimi contatti io mi sono confrontato con tanti amici da tutti i paesi della Germania dalla Scandinavia è molto differente da persona a persona l'opinione che hanno rispetto a come si sta comportando come si è mossa l'Italia da questo punto di vista perché assolutamente d'accordo e sono il primo a voler avere interesse a tutelare la salute delle altre persone ma tanti ci gridano quello di aver sacrificato rischiare di sacrificare poi intere generazioni e tantissimi posti di lavoro per questa scelta estrema del lockdown ma ti dico cioè ripeto le donne per me non dovrebbero parlare mai né di politica né di calcio perché non ho le competenze per farlo io posso parlare dal punto di vista estremamente individuale perché dal punto di vista politico socio-politico non condivido tante scelte che probabilmente con ragione sono state fatte se si vede la quantità di persone che purtroppo hanno perso la vita in una situazione del genere per cui sicuramente avranno avuto tutte le giustificazioni trovo che sia adesso il momento di iniziare a uscire da questo lockdown perché è comunque doveroso riniziare a far partire un paese perché veramente se no il paese crolla completamente e comunque sai anche far ripartire le fabbriche già la parola fabbrica ti fa capire che la dimensione è abbastanza grande per cui è un dovere di mettere tutte le persone in spazi e a distanza di sana sicurezza gli altri paesi beh sai dipende se si guarda politicamente ci sono dei paesi che sono gli unici veramente meravigliosi che sono stati con gli italiani sono stati gli albanesi che nessuno avrebbe per cui ecco chapeau all'Albania che sei stata la prima a mettersi a servizio dell'Italia e tanti ci hanno sicuramente criticato e probabilmente siano stati criticabili però ecco adesso credo che tante persone la Francia per prima si rende conto che l'Italia è necessaria perché deve ripartire perché specialmente il segmento moda veramente credo non solo la percentuale perché direi una stupidaggine numerica però la stragrande maggioranza del manifatturiero è tutta in Italia poi i francesi sono bravi a vendere ma viene tantissimo prodotto in Italia per cui se non riparti il ciclo produttivo è un problema sia per l'italiano ma poi si ripercuote anche su tutto l'altro sistema io parlo del sistema moda certo certo e purtroppo non è che si apre la faliera sarti in singolo la faliera sarti aiuta il sistema moda perché la faliera sarti comunque si appoggia a rifinizione si appoggia a tintorie si appoggia a lavanda a qualsiasi segmento del suo emisfero moda per cui far ripartire un sistema va fatto ma adesso veramente secondo me sicuramente con estrema cautela dal punto di vista sanitario però adesso è anche il momento dove non ci sono più situazioni di pericolo e la Toscana come anche Napoli sta dimostrando che non c'è situazione di pericolo forse è il caso di far ripartire tutelando probabilmente non facendo uscire nessuno dalla città ecco però iniziare a far ripartire un sistema perché altrimenti ci si atrofizza oltre che l'azienda ci si atrofizza il cervello e quindi ecco poi diventa veramente difficile ripartire e quindi credo che siamo già al limite di quanto un paese poteva arrivare e adesso credo sia veramente necessario porre fine e dare fare un piano reale con persone competenti per cui forse il governo dovrebbe parlare con persone che hanno le mani all'interno delle aziende dell'industria reale italiana perché ce ne sono tante strabrave stracompetenti non importa andare dai più famosi ma insomma ci sono veramente persone eccezionali che sanno quello che dicano e che hanno una consapevolezza reale di che cosa vuol dire la parola azienda e lavorare con i dipendenti tutti i santi giorni e uscire da questa terribile situazione di cassa integrazione ma soprattutto anche di insicurezza perché veramente non fa bene a nessuno assolutamente d'accordo non posso ovviamente che riprendere quello che scrive Mariella mi sta dicendo che il sistema è fondamentale importante giornalista quindi sono anche contento ovviamente che stia seguendo in un certo quel modo tra l'altro io devo dire scusa se ti interrompo che se io ho iniziato a fare la mia vera prima fortuna dell'immagine è stata proprio grazie a Mariella che saluto che è meravigliosa perché quando eravamo a New York lei mi disse ma scusa ma perché non stampi la bandiera italiana e la mette sul mercato e lei mi fece la prima intervista con la bandiera italiana che poi è diventato un mio must e Mariella che è una delle giornaliste con tutto rispetto con una di una categoria di conoscenza pazzesca devo dire che giustamente ha sottolineato che bisogna fare sistema cioè adesso bisogna fare sistema ma bisogna avere rispetto l'uno dell'altro aiutarsi e sistema vuol dire veramente fare sistema ma non vuol dire Prato contro Biella Biella contro Como e Nord contro Sud cioè qui vuol dire essere italiani non bisogna non bisogna dimenticare l'inno italiano o che tutti eravamo a vedere a sentire la messa del Papa e tutti in diretta con Piazza San Pietro Vuota e quindi ci siamo sentiti tutti italiani adesso bisogna dimostrare di essere italiani davvero e quando riparte la macchina essere italiani vuol dire veramente andare tutti in una direzione come fanno i francesi tante volte bisognerebbe essere un pochino più patriotti amare questo benedetto paese e adesso fare di tutto per farlo andare quindi è fondamentale assolutamente assolutamente d'accordo specialmente mi permetto di dire nel settore moda nel quale lavoro comunque da 15 anni e che in più occasioni purtroppo ha spesso dimostrato di non essere in grado di farlo a causa di appunto visioni individualistiche si appendano le bandiere come dice la Maria dalle finestre però invidie e situazioni speriamo speriamo che sia la volta buona io da questo punto di vista come piccola testimonianza posso dire che ecco questo momento forse è servito per una serie di cose a me nello specifico è stata la dimostrazione invece che se uno semina nel corso del tempo riesce a raccogliere dei risultati e sto avendo per fortuna grande grande disponibilità e fortunatamente il continuo e rafforzamento di tante collaborazioni e tanti tanti slanci positivi da parte di tanti di voi te ne sei l'esempio tantissimi clienti negozianti con i quali ho potuto fare queste dirette in questi giorni altri che ne seguiranno però davvero come ce ne sono tanti ce ne sono la maggior parte ahimè nel mio specifico caso e nel caso di tutti che davvero nel sistema moda non riescono a fare non riescono davvero a fare sistema e collaborare quindi mi auguro fortemente che questo che questo cambi necessariamente ma che non resti uno spot uno spot unicamente uno slogan di questo periodo e poi vada subito a scemare quindi ce l'auguriamo fortemente e io invito a questo punto la signora Mariella a prendersi un caffè con me visto la sua rubrica c'è un caffè con Mariella io ci sono quando vuole un caffè lo prendo volentieri anche io a parte gli scherzi davvero grazie infinitamente Monica per questa grande possibilità grazie a te di poterci aver raccontato la vostra storia in modo coraggioso e molto onesto schetto con il quale state affrontando questo momento segno davvero che l'Italia è fatta di tante eccellenze e di donne molto forti come te che hanno polso e voglia assolutamente di non mollare ma ricominciare il più rapidamente possibile e se se mi permetti proprio che in realtà non si sono mai fermate neanche in questo momento si si no no un saluto grande a te e ti prego di portare i miei saluti a tuo fratello che ho scoperto che chiami Chicco quindi a Federico si è vero scusa Federico è sempre il fratellino più piccolo ecco sarà sempre il mio Chicco assolutamente grazie grazie infinitamente un buon proseguimento di giornata e a prestissimo a prestissimo e ancora complimenti per tutto e grazie grazie a te ciao 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 Monica io ringrazio tutte le persone che oggi ci hanno fatto compagnia e hanno seguito questa diretta a mio parere davvero interessante con Monica Sarti e sono contento che ancora un'altra personalità che fa parte di una di una importante che fa parte Grazie.